La grande guerra cambia il mondo perché è una guerra di masse e di popoli. Persone che non erano mai state coinvolte all'interno del conflitto si trovano improvvisamente dentro il teatro di guerra o arruolati e coscritti. Saranno circa 65 milioni di persone quelle che verranno mobilitate per la guerra e 8 milioni e qualcosa non torneranno mai più a casa. E' una cifra che verrà addirittura poi dilatata dal fatto che durante la guerra una gravissima epidemia, la cosiddetta influenza spagnola, miete ancora il doppio delle vittime della guerra e lascerà il continente europeo in una condizione totalmente inedita nei secoli recenti di grande scarsità addirittura di popolazione. Due paesi in modo particolare, la Russia e la Germania, pagheranno il prezzo più alto di vittime con circa 1 milione e 700 mila morti per parte, anche se la Russia aggiungerà questi, quelli che saranno poi gli effetti del conflitto che si aprirà con la rivoluzione bolshevica. Ma soprattutto questo senso di una grande ferita portata all'interno delle generazioni giovani che marcherà il contesto europeo degli anni successivi. Ci saranno paesi nei quali diventerà perfino difficile prendere marito per mancanza di uomini sulla piazza. E questa incisione così profonda la si può trovare rappresentata in tanti modi. La prima guerra mondiale è un evento che ha lasciato uno strascico di memoria molto forte, molto importante. Anche oggi in Italia è facilissimo rendersene conto. Non si troverà chiesetta, parrocchia, pieve, fermata dell'autobus, paesino che non abbia la lapide con indicati i suoi morti, e anche giovanissimi, quasi a rappresentare in maniera marmorea un lutto che attraverserà tutte le generazioni, tutta la popolazione, ma che al tempo stesso sarà un lutto che sembrerà non aver insegnato granché, perché è da lì che nasceranno poi quelle tendenze ancora di nuovo nazionalistiche, totalitarie, che porteranno l'Europa di nuovo al conflitto nell'arco di un solo ventennio.